Buongiorno e benvenute, siamo a dare un'occhiata alla gamma 18-19 di Drake, la proposta top di gamma per le donne si chiama DFL è una tavolina molto molto figa, secondo me è la versione femminile della Team, che è una tavola che scuote veramente tanto successo presso il pubblico maschile è una tavola all mountain, quindi capace di passare senza grossi problemi dalla fresca alla pista, anche curve abbastanza tirate, fino al park non importa dove la portiate, lei c'è, è una tavola leggermente direzionata, quindi la punta è più lunga e la coda è più corta questo vi darà un pochino più di galleggiamento in fresca, un pochino più di stabilità alle alte velocità senza compromettere in nessun modo trick, manovre, cose simili, non è una leggera direzionalità di credo un centimetro a creare problemi in switch anzi, ha un camber tradizionale da punta a coda per rendere la tavola reattiva, per rendere la tavola stabile un'ottima tenuta in curva, veramente un binario, una soletta sinterizzata di altissimo gamma, di altissimo livello quindi molto molto veloce, se avete già un buon controllo sulla tecnica, se siete già a un buon livello e cercate un mezzo definitivo per spingere sul serio, la DFL è la tavola che fa per voi potete provare la gamma Drake femminile alle nostre uscite, buttate un occhio sul sito sono tutte abbastanza ben spiegate, magari ogni tanto non siamo precisissimi ma perdonateci se invece volete fare qualche domanda sulla tavola in sé, volete qualche info in più sulla gamma Drake scriveteci, dateci un colpo di telefono, una mail oppure sui social o nei commenti qua sotto a presto, boom!